Ora presentiamo l'ultima coppia con cui concludiamo le performance di questa sera, questa è una coppia di nuova formazione, lei è una ballerina storica, maestra anche insegnante di Roma, sto parlando della scuola Tango Amor Mio di Roma, Matilde Beccaria accompagnata da Alex Moncada Roccas. Grazie. 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 Forse l'applauso Matilde Beccaria, Alex Moncada Rocca e chiedo di raggiungerli a tutte le altre coppie di questa sera per una foto finale come ricordo, rimanete Alex, una foto ricordo con tutti i maestri di questa sera e gli facciamo ancora un forte applauso Matilde, Alex, Paolo, Cinzia, Gaetano, Ilaria, Francesca, Luca, Vito, Giorgia, Andy, Lucia per tutti voi ragazzi, forte l'applauso, Mirabella ci sei, stai immortalando queste bellezze tanghere Ecco, si è svegliato il pubblico, avete visto? Un po' alla volta, erano un po' in freddo lì Poi, po' alla volta, carbura anche il pubblico come noi, no? Bene ragazzi, grazie, forte applauso ai maestri, gliel'abbiamo fatto, adesso un forte applauso a tutti voi! E grazie sempre di essere così tanti, a parte gli scherzi calorosi e numerosi Ci vediamo tra un quarto d'ora in piazzetta e iniziamo la milonga Verso mezzanotte e mezzo, ballo ronda di tutti i maestri Grazie e buona continuazione di nottata, grazie 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 Grazie